Siete ancora qui, vuol dire che oramai siete degli agonisti del diritto della musica, cioè vi piace proprio l'agonia, non ne avete avuto abbastanza. Cominciamo invece a introdurre dei concetti di tipo di diritto d'autore. Il primo concetto sul quale mi piace sempre soffermarmi è una distinzione importante preliminare che si fa quando si parla di musica, che non è affatto scontata, cioè cercare di usare il termine appropriato quando si pensa al proprio lavoro. Come gli ortolani non usano mai il termine frutta e verdura in senso generico, così noi musicisti non dovremmo mai usare il termine la mia musica, perché la mia musica non significa niente. Si parla di opere musicali o di composizioni musicali come frutto del lavoro creativo di un autore, cioè di colui che scrive il testo o la melodia principale di una composizione. si parla di esecuzioni o interpretazioni come il frutto creativo dell'attività di un artista interprete esecutore, il musicista. non per forza è autore, io posso suonare una canzone di un altro autore, le cosiddette cover. È mia l'interpretazione, non è mia l'opera. O viceversa, posso fare il solo autore e non interpretare mai nulla. Bellissimo mestiere. Si parla di registrazioni fonografiche o fonogrammi per parlare del frutto del lavoro dell'imprenditore che investe al fine di realizzare la registrazione musicale contenente l'interpretazione di un artista di una determinata opera, il cosiddetto produttore di fonogrammi non è un creativo, è una persona che ha messo i soldi e investito il suo tempo o del denaro per far sì che quella interpretazione fosse fissata, registrata. Attenzione a non confondere il produttore di fonogrammi che è per la legge colui che è il proprietario della registrazione musicale, perché l'ha di fatto pagata, con altre categorie di produttori che lavorano nello spettacolo, ad esempio i produttori artistici o i produttori esecutivi, queste sono semplici maestranze ai quali il produttore fonografico delega alcune attività, nel caso del produttore artistico l'attività di regia del prodotto, quindi il produttore artistico è colui che sceglie come va cantato un brano, con che arrangiamento va fatto, con che suoni, con che strumenti, con che mixaggio, invece il produttore esecutivo è normalmente colui che organizza il lavoro di produzione, quello a cui viene detto questi sono i soldi, portami il disco fatto, quindi lui prenota gli studi, chiama i musicisti, fare le paghe eccetera, sono pagati dal produttore di fonogrammi che è quindi la persona fisica o giuridica che si assume l'iniziativa di fare il disco, in soldoni, se voi siete a casa vostra col vostro computerino, vi registrate, voi siete il produttore di quel prodotto, ne siete i proprietari, se voi prendete uno studio di registrazione e lo pagate, andate a suonare, siete i produttori, se viceversa io vi invito in uno studio e voi suonate gratis, il prodotto è mio, chiaro? Attenzione perché queste tre categorie di soggetti, queste tre tipologie di beni, l'opera, l'interpretazione e il fonogramma, sono tra loro indipendenti, quindi quando un artista è autore, cantautore, cantautore autoprodotto, in unica persona è tre persone diverse, con tre diritti diversi, con tre fonti di guadagno diverse, quindi ragionare nel senso di mia musica è forviante, perché potremmo avere normalmente quelle situazioni in cui, non so, il brano l'hanno scritto in due, l'hanno suonato in cinque, ma il master l'hanno pagato in quattro, ok? La nostra musica, no? Noi due facciamo gli autori, noi quattro suoniamo, noi cinque suoniamo, noi quattro paghiamo il prodotto, bisogna dare a ciascuno il suo. Il quarto soggetto che ci può essere, non è obbligatorio che ci sia, è l'editore musicale. L'editore musicale è l'imprenditore che investe nella diffusione dell'opera musicale, cioè il produttore investe nella diffusione di quella interpretazione di quell'artista, cioè di quella versione del brano. L'editore investe nel far circolare l'opera, per fare un esempio che possiate capire in maniera semplice, l'editore di romanzi, è colui che trova un bel romanzo di un bravo autore e dice, bene, secondo me questo può aver successo. Tiro fuori di tasca mia del denaro, lo impagino, lo stampo, gli faccio una bella copertina, gli faccio la pubblicità, lo porto nei negozi, poi sui ricavi che ci sono, una parte è per me e una parte è per l'autore. Ho investito denaro nel talento altrui per farci dei soldi io. In questo modo ho dato circolazione e commercio a quell'opera. Nel mondo della musica, l'editore musicale, cosa fa analogamente? Nell'ottocento faceva la stessa cosa con gli spartiti musicali, che era il modo in cui all'epoca circolava la musica, perché non c'erano i dischi, non c'era la radio, non c'era l'MP3, non c'era il telefono, non c'era internet, non c'era niente, se volevo sentire la musica o la sentivo dal vivo, oppure prendevo lo spartito e lo facevo suonare a qualcun altro, la musica circolava con gli spartiti. E questa era una edizione per le stampe, come il romanzo. Se invece pensiamo ad oggi, dove ci sono molte più forme di sfruttamento di opere musicali, l'editore musicale non è più quello che stampa gli spartiti, perché gli spartiti non rendono più niente, sono una cosa in più, soprattutto nel mondo della musica leggera. È quello che prende l'opera e pensa, questo brano, come può essere utilizzato? Non so, potremmo fargli mettere un bel testo e lo facciamo cantare a quella cantante là, però potremmo fare anche un testo in spagnolo e lo facciamo cantare a una cantante spagnola, poi gli facciamo fare un arrangiamento un pochino più dritto e facciamo una versione per discoteca, poi facciamo la versione strumentale e la usiamo per un film, gli facciamo cambiare il testo e diventa uno spot pubblicitario, diventa una suoneria per cellulari e pensa a quel brano quante utilizzazioni può avere, indipendentemente da qual è l'artista che lo esegue, perché da ogni utilizzazione viene generato un provento da diritto d'autore, un compenso. Ora capite già subito che l'editore non è, non c'è sempre, non è necessario, l'autore può far da solo, ma se un editore investe nella diffusione dell'opera, beh questa opera può avere più possibilità e generare più compensi. Per la serie è meglio avere il 50% di molto che il 100% di poco. Quindi questo schema è molto rivelatore di quelli che sono i diritti d'autore nell'ambito musicale. Sopra avete i creativi, autore ed artista, sotto avete l'industria culturale, chi investe in creativi, qua avete chi lavora con le composizioni, le opere musicali, qua avete chi lavora con le registrazioni musicali. Fatta questa distinzione e imparato il giusto linguaggio, discutiamo di tutto. La prima questione di natura generale che mi piace dire è che quando si ha una situazione musicale, magari amatoriale, con la quale si comincia, è bene definire con gli altri, in un gruppo musicale, chi è cosa. Perché il musicista ha l'idea che il gruppo musicale è la casa in cui vive, noi siamo la nostra musica. Ma non è corretto, se non fosse altro che, come vedete, ci sono impegni diversi, interpretazioni diverse da questo punto di vista. Quindi meglio metterlo in chiaro, poi se volete andiamo nel dettaglio. Andiamo a definire però, diciamo, anche come sono inquadrate queste due attività. L'attività dell'autore e della sua opera è inquadrata secondo la tutela del diritto d'autore. E vedremo dopo cos'è. L'attività dell'artista e del produttore è inquadrata secondo la tutela dei diritti connessi o secondari. Cioè diritti che sono nati negli anni 60 per tutelare i musicisti. Lo dico in maniera molto cinica, ma il motivo per il quale i musicisti non c'è, uno dei motivi per cui i musicisti non c'è al lavoro è perché ci sono i dischi. Perché prima che esistessero le registrazioni musicali, se volevi ascoltare musica devi avere davanti qualcuno che suonava, o al massimo qualcuno che suonava dal vivo in radio. Nel momento in cui c'è la registrazione musicale, tu suoni una volta, poi vai a casa e questa cosa continua a replicare la musica, la registrazione musicale senza di te. Va avanti senza di te. Per cui tu sei stato pagato una volta, ma quel prodotto continua a essere utilizzato senza che tu percepisca. Di conseguenza è stato creato anche lì un diritto per far sì che tu possa percepire anche dopo quella singola prestazione che rendi in sala di incisione. Ok? Queste sono le due macro aree. Andando più chino nello specifico, l'area del diritto d'autore, che è questa, che vale per tutte le tipologie di opere, presenta tendenzialmente queste caratteristiche. Che cosa tutela il diritto d'autore? Il diritto d'autore tutela forme espressive, non idee. Vuol dire che il diritto d'autore tutela il modo in cui noi esprimiamo un'idea, non l'idea di per sé. L'idea di scrivere una canzone sull'ultimo dell'anno è un'idea. Poi ciascuno di noi la sviluppa con note diverse o un testo diverso. Ok? Ed è quell'insieme di note, quell'insieme di parole che costituisce la forma espressiva ed è quello che viene tutelato di una canzone, non l'idea di fare. D'accordo? Secondo concetto, quindi forma noide. Secondo concetto, il diritto d'autore tutela opere che siano originali. Dove l'originalità o novità è un requisito non soggettivo. Ah, che roba originale che fai, no? Ma è un requisito oggettivo. Esiste già quell'opera o no? Se esiste già non è creato nulla. Ricordate Troisi, non ci resta che piangere, che andava dalla fanciulla. Ti ho scritto una canzone. Fa così. Yesterday, far away. Vi ricordate? E invece era evidente che non era sua questa canzone. Ora, rispetto al concetto dell'originalità che ci porta alla questione del plagio, la domanda è, qual è il minimo di note o di parole che ci fa dire che è una cosa originale o meno? Allora, su questo, contrariamente alle infinite leggende metropolitane che sentite in giro, non esiste un minimo. No, no, questa è una leggenda metropolitana. Esiste un motivo per cui ci sono gli avvocati. Esiste? No, non c'è. Allora, ragioniamo. Se io dico ti amo Giulia, è originale? No. Perché questa è una frase di uso comune, no? Ti amo Giulia quando mi fai le coccole, è originale? No. Questa è una frase di uso comune. Se io dico ti amo Giulia quando mi fai le coccole, la sera torni a casa stanca e poi mi piace il modo con cui mi guardi, comincia a diventare più difficile che questa frase sia utilizzata. Se io dico troppo celebrale per capire che si può star bene senza complicare il pane, beh, questa frase è certamente originale. È Samuele Bersani, giudizio universale. Ok? Quindi non esiste un minimo di parole. Se no pensiamo a mi illumino d'immenso. Scusa, tu parli di parole e di note. Ah, vale uguale. Il concetto è lo stesso. Mi illumino d'immenso. La prima volta che Ungaretti l'ha detto era una novità assoluta. Tre parole. Mi illumino, d'immenso. Quattro con la preposizione. Lo stesso discorso vale per le note. Qual è il numero minimo di note per dire che c'è un'originalità? Allora, ragioniamo. in maniera banale. Do è tutelato? No, perché è il mattoncino. Li leggo base su cui costruisco qualunque cosa. Do mi? Do mi sol? No, è una trede maggiore. Do mi sol do? Allora, il punto è che nella storia della musica una sequenza di note è tanto più frequente quanto è più corta. Giusto? Perché gli intervalli sono dodici. Giusto? Quindi non esiste un numero minimo di note o un numero massimo di note. Esiste. quella sequenza di note è mai stata utilizzata? Sì o no? È mai stata scritta? Sì o no? Probabilmente sì. Infatti è molto difficile che esisti il plagio. Più è lunga la sequenza di note e più è improbabile che si sia verificata nella sua interezza. Più è corta e più è probabile che si sia verificata. Il caso che gli italiani ricordano meglio soprattutto i pugliesi Albano Michael Jackson i cigni di Balaka Will you be there due melodie esattamente identiche esattamente identiche dove però queste melodie vengono smontate da dei musicologi per dire ma questa sequenza di note esiste qui, 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 non c'è nulla di nuovo e quindi non ha Michael Jackson ha copiato Albano ma entrambi hanno preso da quel bacino di comune conoscenza che è la musica quindi il plagio è rarissimo in ambito musicale vi faccio una provocazione ma nel blues cosa c'è di nuovo? No? Perché sono cinque note e sei al massimo un po' sciaffolate sono dodici misure col turnaround ma la roba è quella lì giusto? quindi è molto frequente che voi possiate dire questo passaggio mi ricorda è uguale a queste tre note ma non per forza si configura un plagio perché nella storia della musica tre note le hanno usate tutti in qualunque sequenza domanda se io faccio un brano e al termine questo brano è una citazione quindi come è lo vediamo dopo per la legge sul diritto d'autore non è considerato una citazione ma un plagio quindi se tu vuoi inserire volutamente una opera altrui nella tua se tu vuoi fare adesso dirò siamo siamo in diretta mondiale no? però se tu vuoi fare primo tu non prendi parte neanche una barzelletta due treno dell'amore portami con te che è un mondo d'amore rifatta con altre parole da egli e le storie tese nella vendetta del fantasma formaggino oppure la più conosciuta Born to be Abramo che dentro c'ha parti di Born to be Alive parti di resta con me parti di resta con me signor la sera tu devi chiedere l'autorizzazione per fare queste riproduzioni queste elaborazioni dell'opera perché stai usando una proprietà di altri all'interno cioè per farne un uso commerciale tu o anche non commerciale è roba di altri non è considerata citazione la citazione nella legge sul diritto d'autore è fatta solamente in ambito didattico solo per un estratto citando correttamente l'autore come hai visto fare da me no? anche se non ho citato tutti gli autori e e sempre senza mettersi in concorrenza con il legittimo diritto dell'autore di guadagnare e se no il remix il sampling cos'è? tutta citazione tu prendi piccole proprietà altrui e ci costruisci un business per te no? buono requisito di originalità terza questione ci sarebbe anche il requisito di creatività ma è molto fumoso vorrebbe dire l'hai scritta tu fondamentalmente e mi porteranno i colleghi avvocati che ci seguono da casa che se sono così semplice terzo punto da quando nasce questo diritto nasce da quando l'opera viene creata e qual è il momento in cui l'opera viene creata? il momento in cui per la prima volta esce dal nostro corpo sono sotto la doccia fischietto un motivetto originale tac quello è il momento in cui l'opera è creata e quello è il momento in cui entra nel mondo è quello è il momento dal quale la legge mi riconosce il mio diritto d'autore quindi se la legge non prevede alcuna formalità per questo riconoscimento allora come faccio io a provare di essere l'autore? la legge dice beh innanzitutto si presume autore chi si dichiara come tale per cui la prima cosa che fai quando ti nasce un figlio vai all'anagrafe e gli dai un nome e un cognome il nome è il titolo dell'opera e il cognome è il tuo albachiara rossi si viaggiare battisti no? quindi innanzitutto comincia a farci ancora il tuo nome insieme a quell'opera primo perché se non c'è l'autore non si può sapere chi è secondo cerca una prova di tempo certa certa per il giudice che possa dire che possa testimoniare che quel giorno a quell'ora tu eri in possesso dell'opera cosicché avendo questa prova chiunque la copierà da te non potrà dire l'avevo avuta prima e quindi probabilmente potrebbe averti plagiato ok? come si fa questa attività? in tantissimi modi il modo più comune per chi lavora nella musica è fare i depositi alla SIAE perché la SIAE in qualità di ente pubblico economico tiene anche dei compiti affidati dalla legge che tra questi c'è la tenuta del pubblico registro delle opere dell'ingegno che è una sorta di gigantesca anagrafe dove tutti i papà vanno a dire mi è nata un'opera e quel registro ha valore di prova ai fini di legge la SIAE fa due tipologie di depositi i classici depositi per gli iscritti alla SIAE o mandanti alla SIAE che sono gratuiti poi c'è il servizio di deposito delle opere inedite invece che è riservato a chi non è iscritto alla SIAE o è di altre sezioni che invece prevede il pagamento di 131,81 euro per 5 anni vale per 5 anni si consegna alla SIAE un plico con dentro le proprie opere ad esempio un cd con dentro 10 canzoni la SIAE dice questo plico l'ho ricevuto in questa data l'autore dichiara di essere l'opera e c'è una prova di tempo certa non è molto diverso da quello che può fare un notaio se ci pensate che dice è venuto da me oggi il signor Mario Rossi mi ha fatto vedere 10 composizioni oggi timbrino non certifica che siete l'autore certifica una data lo stesso tipo di risultato si ottiene con i servizi di marcatura temporale che sono disponibili online molti siti li fanno il servizio consiste nel prendere un file attribuirgli un codice e dare una data certa a questa criptatura è lo stesso risultato che si ottiene con una posta elettronica certificata che è un servizio attraverso il quale uno può inviare una mail e ottenere una prova certa che quel giorno a quell'ora è stata spedita e consegnata costo 5 euro questi sono i modi più importanti stavo per arrivarci l'ennesima leggenda metropolitana è che se ti spedisci una raccomandata con dentro il tuo cd è una prova di tempo certa non è così perché c'è una giurisprudenza alta così di giudici che dicono che è una prova assolutamente dubbia perché tolgo la colla la busta sostituisco il contenuto richiudo la busta vai tu a provare cosa c'era dentro lo so ma questo ti dà l'idea della mancanza di informazione di base che c'è la leggenda di cui si parlava prima almeno 8 battute sotto le 8 battute si può fare di tutto che è come dire su un metro quadro di casa tua posso entrarci e fare quel che mi pare superato il metro quadro devo chiederti il permesso non ha senso cioè o no no se è una roba mia tu non la tocchi punto tanto o poco purché sergino eh? ma no è assolutamente vera ma vedi questa è una è una confusione che nasce da un'attività no ma non è così la la confusione nasce da una da una procedura amministrativa cioè che quando si va a depositare un brano alla CIA e la CIA ti dice io voglio la trascrizione completa poi ti dice mi compili il modulo 112 nel quale mi fai parlare poi mi arrabbio in diretta mondiale è una bel vedere mi compili il modello nel quale mi indichi chi sono gli autori e le quote nel quale si dividono la proprietà dell'opera e per allegare i due esemplari riportami otto battute per far vedere che sono i due è solo per abbinarli non significa almeno otto battute non significa nulla è un mero modulo non c'è altro fine oltre a quello però aggiungo ci sono anche tantissimi altri modi per far valere in giudizio un'anteriorità tantissimi gruppettini di dilettanti ci chiamano e ci dicono panico stasera abbiamo un concorso musicale ci sono nella giuria delle persone del settore e noi non abbiamo depositato il brano alla CIA e adesso ce lo rubano scusa fai un'esecuzione pubblica ci sono 200 persone che ti guardano ma alcuno anche magari riprende se c'è da fare un giudizio te le porti a testimoniare no? se proprio devi andare in causa non è che non vale niente questo vi ricorda che la tutela c'è anche se non depositate i brani alla CIA poi detto tra di noi se volete fare musica professionalmente in un modo o nell'altro una prova di tempo certa la dovrete cercare d'accordo? ma depositare alla CIA ha senso se io mi iscrivo alla CIA perché voglio anche che la CIA vada a recuperare i proventi generati dall'uso della mia opera ma se io oggi scrivo canzoni che non vengono suonate dal vivo non faccio dischi e così cosa mi iscrivo alla CIA fare? non mi iscrivo alla CIA trovo un altro modo per ottenere questa prova di tempo certa e mi iscrivo alla CIA nel momento in cui qualcun altro usa le mie opere allora ha senso no? guardate questa è una cosa importante perché voi non lo sapete ma ci sono alla CIA iscritti più di 20.000 autori che non guadagnano neanche un euro neanche un euro l'anno significa che rimangono iscritti alla CIA o per il piacere di pagare la quota annuale o di dire che sono iscritti alla CIA o perché pensano che se si tolgono dalla CIA perdono la tutela delle loro opere che non è così una volta che il bravo depositato è nel pubblico registro ci sarà per sempre voi andate alla CIA di Roma in direzione generale ci sono i bollettini di Puccini appesi sono ancora lì no? con la firma con il bel modello 112 fatto allora rispondo quindi alla tua domanda qual è la tutela che io posso avere se le mie opere circolano in tutto il mondo se sono online le tutele che la legge prevede cercati una prova di tempo certa metti sempre il tuo nome accanto ai tuoi brani abbi la prova che sono tuoi poi non potrai mai sapere se oggi in Giappone qualcuno sente il tuo brano e te lo copia questo è un problema di conoscenza però se dovesse capitare e lo vieni a sapere almeno è qualcosa su cui puoi sostenere il tuo diritto poi ti ripeto Morricone dice in alcune consulenze tecniche per le cause di plagio che nella musica leggera non c'è più niente di nuovo quindi se vuoi fare una roba veramente originale scrivi canzoni particolari con intervalli particolari melodie particolari perché se rimani sul maggiore sul minore che c'è di nuovo no? in pubblico dominio lo vedremo tra poco è lo stato in cui si trovano le opere trascorsi 70 anni dopo la morte del loro autore o dell'ultimo degli loro autori non è che per forza ciò che è tradizionale di pubblico dominio perché io ho ascoltato anche il trabile che poi iniziano proprio delle musiche popolari e lì se ne sono filmando però gli autori ti racconterò come funziona in Italia uno dovrebbe considerare il proprio contributo creativo solo sulla parte nuova e sulla parte di pubblico dominio no è una forma di elaborazione in Italia ad esempio in SIAE c'è una commissione apposita che è la commissione elaborazione di pubblico dominio con il quale si va a valutare qual è il tuo effettivo contributo e ti riconoscono una quota di proprietà dell'opera in base a quello che di nuovo hai apportato proprio per evitare che tu possa appropriarti di una piazza pubblica dicendo che è una tua proprietà ok allora fate queste premesse importanti è giusto che voi sappiate che il diritto d'autore in realtà è una moneta con due facce è una moneta con due facce normalmente voi vedete solo una faccia quella in cui ci sono gli euri pensate al diritto d'autore come un diritto di natura economica un diritto patrimoniale derivante dall'utilizzazione economica dell'opera e in questo senso il diritto d'autore è inquadrato fino al settecento come una sorta di diritto di proprietà è una finzione giuridica si chiama infatti proprietà intellettuale avete mai sentito sto termine dimmi si 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 vai vai tradizionale forviante non devi parlare di tradizioni parli pubblico dominio si perché ci sono dei brani che sono della nostra tradizione non sono ancora di pubblico dominio se è pubblico dominio non lo puoi depositare se tu però fai un'elaborazione su un brano di pubblico dominio ad esempio aggiungi un testo a un brano strumentale allora il punto è quanto vale su cento per cento di una torta il tuo vero contributo creativo vale tanto vale poco è questa c'è una commissione di autori editori che dice secondo noi vale 50 quindi quando quel brano maturerà dei compensi 50 verrà dato a te l'altro 50 no tu fai un deposito normale in cui tu scrivi non so riferito a questo caso testo ilenia musica bac ok e tu metti cento per cento ilenia dopodiché la commissione fatta le sue verifiche farai una relazione in cui dirai cosa hai fatto di nuovo in questo caso è evidente c'è un testo che prima non c'era ecco lo strumento è una questione se vuoi di esecuzione il punto è se tu hai cambiato delle voci un arrangiamento hai creato un contrapunto perché far la stessa melodia con strumenti diversi non c'è niente di nuovo a livello creativo ma ad esempio adattarla un adattamento per fiati di laburé di Bach che quindi comporta voci di contrapunto arrangiamenti diversi può essere un contributo creativo e quindi in questo caso si va a premiare l'elaborazione che tu hai fatto di quest'opera cioè quell'arrangiamento che hai fatto di quell'opera allora questa commissione dopo un annetto 2 ti risponde e ti dice ti riconosciamo su questa tua versione particolare x punti è proprio per evitare che tu dica no mi prendo anche il merito di aver scritto la parte musicale che non hai scritto tu diritti patrimoniali diritti patrimoniali per farla semplice dovete ragionare esattamente come ragionate su proprietà vostre cioè il diritto d'autore è alla fine un diritto di proprietà detto brutalmente posso usare il testo di una canzone e metterci un'altra musica no posso cambiare il testo di lingua inglese e fare l'italiano no ci vuole il consenso del proprietario questo è il modo più semplice ma esistono anche dei diritti che non hanno a che fare col denaro ma hanno a che fare con l'autore come persona che si chiamano diritti morali sono l'altra faccia della moneta quella in cui c'è il faccione no perché ed è la bellezza del diritto d'autore tutela l'autore come lavoratore dandogli la possibilità di avere uno stipendio per il suo sforzo creativo stipendio che diversamente non potrebbe avere ma tutela l'autore come persona perché nell'opera c'è lui in quell'opera c'è l'espressione di quell'autore il suo modo di parlare il suo modo di vedere la vita un fatto che lui racconta e quindi quando si va a toccare l'opera si tocca l'autore da qui derivano alcuni diritti morali importantissimi primo il diritto morale di paternità c'è il diritto che ha l'autore di essere riconosciuto come l'autore cioè come il papà dell'opera no? all'epoca non c'era un grave riconoscimento della donna non esiste il diritto di maternità è maschile come diritto quindi per sempre nei secoli dei secoli si dovrà sapere che quell'opera l'ha scritta quell'autore così che l'autore possa guadagnare credito agli occhi del pubblico ma anche il pubblico possa riconoscere l'opera se ci fosse scritto solo ti amo e noi non sapremo quale opera è perché ti amo l'hanno scritta in 20 autori no? è quella di Bigazzi o o è quella di qualcun altro il secondo diritto è il diritto di integrità il diritto che ha l'autore di opporsi di impedire quelle modificazioni cambiamenti o integrazioni aggiunte dell'opera che possano anche potenzialmente arrecargli un pregiudizio grave al suo onore o alla sua reputazione dove l'onore la stima che lui ha di sé la reputazione l'opinione che gli altri hanno di lui cosa significa? che se io cambio l'opera cambio il giudizio che il pubblico ha sull'opera e quindi il giudizio che il pubblico ha sull'autore quindi non si possono ad esempio fare elaborazioni non posso derivare da un'opera un'altra opera non si possono abbinare l'opera ad altre opere usare una canzone per uno spot pubblicitario abbinandolo a un marchio potrebbe far pensare che l'autore approvi o non approvi quel prodotto allora è una provocazione però vi ricordo che la canzone popolare di Ivano Fossati se ricordate fu utilizzata come campagna elettorale dell'Ulivo in una contesa elettorale degli anni 90 ma questo è stato possibile perché il Fossati ha detto vai Romano e spacca sono con te sono dell'Ulivo ma se non fosse stato di quel partito lì il pubblico cosa avrebbe potuto pensare che quell'autore fosse di quella parte politica e invece non lo era ottenendo così un danno e così via pensate agli spot pubblicitari sono un autore che predica la salvaguardia del pianeta sono un ambientalista convinto e me la usate per la pubblicità della benzina non mi sta bene d'accordo? però deve esserci un pregiudizio grave non un semplice non mi va che si deve provare che questo crea un danno all'autore ci fu una causa storica in questo senso la fece Fellini contro la tv commerciale non ricordo quale perché trasmettevano i suoi film interrotti dalla pubblicità c'erano delle modificazioni all'opera film non film film non film film non film e Fellini sosteneva che questo rompeva il pathos del film al cui lui aveva lavorato studiando cambiando il giudizio che il pubblico aveva sul film e quindi sul regista Fellini perse la causa perché non riuscì a provare che effettivamente il pubblico fosse in grado che il pubblico non era in grado di distinguere ciò che è film e ciò che non è film cioè che l'interruzione pubblicitaria arrecasse veramente un danno di immagine a Fellini ce ne sono altri ve li cito per non farla troppo giuridica il diritto di inedito è il diritto che hanno gli eredi di decidere se pubblicare o meno un'opera che è rimasta nel cassetto prima della morte dell'autore la voleva pubblicare o meno dovremmo rispettare le sue volontà morali era pronta per il pubblico o no avrebbe voluto si conoscesse o meno spesso gli eredi sono motivati da ragioni meramente economiche allora si pubblica tutto no? però e poi il diritto di ripensamento che nella musica è puramente teorico se volete è il diritto che ha l'autore di ritirare l'opera dal commercio qualora concorrano gravi ragioni morali faccio un esempio assolutamente teorico scrivo una canzone che prende in giro i giapponesi e i loro modi di fare che sono sempre via a fare le fotografie che sono le gran staccano visti che fanno i versetti che sono feticisti eccetera il giorno dopo boom scoppia la centrale a Fukushima e io faccio la figuraccia di quello insensibile no? questo potrebbe arrecarmi un grave danno allora fermi tutti togliamola via dalla radio se no qua mi prendono tutti per un allora questi diritti come vedete non hanno a che fare col denaro questi diritti hanno a che fare con la tutela di me come persona no? quell'opera sono io e mia figlia parla di me lo farà sempre per tale ragione questi diritti sono personali possono essere gestiti solo dall'individuo autore sono imprescrittibili non hanno una scadenza esistono per sempre e dopo la morte dell'autore vengono fatti valere dagli eredi sono irrinunciabili cioè l'autore non può rinunciarvi a questo diritto come non potete rinunciare al diritto al vostro nome e sono inalienabili cioè non si possono vendere non si possono vendere come i diritti della persona certo no non è un diritto morale viene leso un diritto contrattuale perché c'è stato magari un impegno a realizzare uno spettacolo o meno a seconda di come è fatto il contratto e diventa una questione di natura civilistica contrattualistica non sono danneggiato nella mia immagine se non dipende da me il fatto di sono rimasto per 15 giorni in questa regione dopo c'è dopo i eventi dopo di guerra sì ma non puoi dire hai leso un diritto morale d'autore dirai dirai avete violato un accordo che era quello di fare quello spettacolo quel giorno a quel cachet il fatto che avete violato questo accordo non solo ci sono delle conseguenze per me perché non avrò quel compenso ma ci sono anche dei mancati guadagni relativi al fatto che non avrò un riscontro da quell'esposizione che quel concerto mi dava oppure se il pub è certo è tutto regolato dal contratto oppure se tu riuscissi a provare che questa cancellazione è stata fatta in maniera assolutamente inopportuna ingiusta contro ogni regola tant'è che il pubblico si è inferocito e se l'è presa con gli artisti con articoli di giornali allora puoi sostenere un danno di immagine ok però non parliamo di questo qua noi stiamo parlando di autori quanto ai diritti patrimoniali invece sono non ve li dico tutti sono dodici come i mesi i semitoni gli apostoli sarebbero anche facili da ricordare sono dodici modalità in cui si declina la proprietà li elenco velocemente sono il diritto di pubblicare cioè rendere pubblico è l'autore che decide se rendere pubblico o meno il diritto di fare copie il diritto di distribuire in forma fisica il diritto di eseguire dal vivo il diritto di diffondere attraverso un media il diritto di mettere online il diritto di tradurre il diritto di trascrivere il diritto di dare noleggio il diritto di dare in prestito il diritto di modificare il diritto di elaborare sono dodici declinazioni la differenza è che questi diritti hanno una scadenza si prescrivono e la scadenza è quella di cui parlavamo prima si prescrivono dopo 70 anni dalla morte dell'ultimo degli autori significa che ad esempio John Lennon è noto nel 1980 fino al 2050 le opere di John Lennon generano proventi un guadagno che gli eredi di John Lennon percepiscono al posto suo dal primo gennaio del 51 si fa così per evitare di vedere i necrologi le opere scritte dal solo John Lennon entra in uno stato cosiddetto di pubblico dominio cioè la legge riconosce questa proprietà all'autore per dargli la possibilità di guadagnare dello sforzo creativo che ha fatto nel creare qualcosa poi deve alleggerire questa esclusiva con il diritto del popolo anche di aver accesso alla cultura senza doverla pagare e quindi è come dire nel nostro paragone che se quando crei un'opera è come se avessi la proprietà di casa tua quando diventa pubblico dominio è come se li togliessero le porte e le finestre diventasse una piazza a cui tutti possono accedere liberamente ma sempre rispettando i diritti morali questi non cambiano quindi se si chiama piazza John Lennon piazza John Lennon si deve chiamare piazza Imagine piazza Imagine di John Lennon fatta in quel modo lì sono rinunciabili io posso dire regalo l'uso di casa mia entrate gratis fatene quello che vi pare e sono alienabili posso vendere casa mia e normalmente la vendita di casa mia è quella che viene fatta all'editore musicale cioè alla persona che compra casa mia e poi va a sfruttarla in tutti i modi possibili perché generi compensi che lui va a dividere con me diventa il motore di queste utilizzazioni il promotore di queste utilizzazioni guardate bene l'accessione dei diritti d'autore è la normale modalità con la quale gli autori guadagnano perché se si tenessero i loro diritti certo avrebbero tutta la proprietà di casa ma di una casa non usata da nessuno se non da loro stessi se invece la danno un'agenzia immobiliare questi fanno affitti 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 questo genera compensi e l'autore si arricchisce ok questo è in maniera molto semplice il discorso del publishing ora per fare un passo un pochino più avanti se è evidente che il diritto d'autore è una proprietà diventa evidente che l'autore non può gestirlo da solo perché nel momento in cui io voglio suonare una tua canzone ti devo chiamare e ti devo dire posso suonarla e tu mi devi dire sì a queste condizioni voglio 50 euro solo due volte e trattiamo e il valore di questa trattativa è il tuo stipendio è il provento dal diritto d'autore ma nella musica l'utilizzazione delle opere è così frequente che è impossibile che l'autore si gestisca da solo per questa ragione fin dal 1800 sono nate le società di gestione collettiva cioè gli autori affidano alle società di gestione collettiva come la SIAE il mandato ad amministrare l'utilizzazione delle loro opere cioè gli dicono guarda queste sono le chiave di casa fai tu gli affitti non mi vuole sapere niente la società di gestione collettiva concede l'uso delle opere agli utilizzatori si fa pagare per questo uso trattiene una percentuale di intermediazione per fare questa attività come fa qualunque agente in SIAE la percentuale di intermediazione oscilla tra l'8 e il 22% in base alle tipologie di utilizzazioni dopodiché va a dare all'autore la sua parte così l'autore sta fermo a casa e non deve stargli a dire 10, 50, 100 tre volte alla settimana è chiaro che questa attività di intermediazione non viene fatta su 12 diritti ma solamente su quegli 8 diritti di largo consumo cioè pubblicare riprodurre eseguire in pubblico comunicare al pubblico mettere a disposizione il pubblico dare in noleggio dare in prestito distribuire i 4 diritti che hanno un pochino a che fare con i diritti morali tradurre trascrivere cioè fare gli spartiti modificare elaborare li gestisce l'autore da solo quindi se io voglio cambiare una canzone non devo chiedere il permesso alla SIAE devo chiedere il permesso all'autore o se c'è l'editore all'editore perché non è un diritto gestito dalla società di gestione collettiva allora qual è il vantaggio di questo sistema indipendentemente dal nome che c'è qui dentro l'autore sta a casa non deve occuparsi di nulla la SIAE di turno non rappresenta un autore ma rappresenta tutti gli autori che conferiscono volontariamente un mandato in Italia parliamo di oltre 80.000 autori di musica per oltre 5 milioni di opere amministrate quindi la SIAE rappresenta un repertorio in questo modo può far valere il valore di un singolo affitto in maniera più alta no? cioè se io oggi giovane autore vado a un pub e dico per suonare i miei brani stasera mi dovete dare 100 euro al pub mi ride in faccia e dice senti ciccio o così o fuori dalle balle se invece va alla SIAE e dice voglio 100 euro o è così o non suoni no? perché rappresenta tutti allo stesso modo la SIAE ha un accordo di scambio con tutte le SIAE del mondo si rappresentano a vicenda per cui la SIAE finisce per rappresentare in Italia il repertorio di tutto il mondo e questo facilita tutti perché l'utilizzatore non deve telefonare a 80 autori per fare una serata va in un unico sportello paga il diritto d'autore e poi ci pensa il sistema della gestione collettiva a dividerlo tra gli autori dei vari paesi e allo stesso modo l'autore italiano può raccogliere i compensi derivanti dall'uso delle sue opere in tutto il mondo senza bisogno di doversi iscrivere a ciascuna SIAE di ciascun territorio inoltre un sistema centrale come questo permette di controllare meglio le utilizzazioni lo so che è controcorrente dirlo e anche impopolare ma la SIAE è conosciuta nel mondo per essere una delle migliori società di gestione collettiva del mondo per quanto riguarda le pubbliche esecuzioni perché territorialmente è distribuita molto bene tant'è che i mandatari SIAE sono odiati da tutto il popolo italiano perché sono quelli che vengono a romperti le scatole a dire ah c'è musica devi pagare il diritto d'autore questa è un'attività che è fatta a favore degli autori in altri paesi questa capillarità non c'è e la conseguenza dell'assenza di questo controllo è data dal fatto che non ci sono i bordero da compilare cioè non ci sono le rendicontizioni analitiche di ogni serata per cui poi si possono prendere quelle rendicontazioni e dividere i brani sull'effettivo utilizzo ma si fa forfè si incassa tutto si prendono un campione di utilizzazioni si divide tutto su quel campione non si può fare analitico in questo con tutti i limiti che possiamo esaminare la SIAE è meglio di molte società il monitoraggio quindi l'autore singolo non può sapere se oggi a Bologna si suona un brano suo la SIAE sì quindi in realtà il sistema della gestione collettiva garantisce nella musica la raccolta dei principali diritti d'autore in favore degli autori noi possiamo discutere ed è giusto discutere ampiamente di la SIAE funziona bene la SIAE funziona male la SIAE divide male la SIAE paga bene la SIAE costa troppo la SIAE costa poco ma non possiamo discutere della necessarietà di avere una struttura che faccia questa attività perché se non ci fosse la SIAE gli autori di musica hanno finito di guadagnare non è invece vero questo in altre tipologie di opere ad esempio nelle opere della letteratura non è necessaria la SIAE l'autore fa un accordo con l'editore l'editore pubblica il libro gli riconosce una percentuale la SIAE non serve e così via ecco si discute molto in questo periodo storico lo sentirete tantissimo del fatto di liberalizzare la gestione collettiva in Italia cioè di avere un'alternativa alla SIAE io non so che opinione vi siete fatti voi in merito se volete ci soffermiamo a parlarne se volete vedere che scenari sarebbero possibili ecco in generale sappiate che non esiste paese in Europa dove esistono due SIAE e questo non per imposizione di legge ma per scelta cioè l'Italia è un paese dove la SIAE esiste monopolista per legge è imposto il monopolio negli altri paesi non è così è stata una scelta di ciascun paese ma in una scelta libera scegliere un'unica società vi dà l'idea del fatto che non ha senso probabilmente avere due società che fanno la stessa cosa avrebbe conseguenze gravi nel nostro settore quello che invece è vero è che esistono più SIAE che però si occupano di opere diverse cioè in Italia abbiamo la SIAE che ha al suo interno la musica la lirica il cinema il teatro le opere delle arti figurative in altri paesi c'è una SIAE per la musica una SIAE per il cinema ma non si fanno concorrenza tra di loro lavorano su opere diverse cioè da noi la SIAE è la casa di tutti essendo pubblica c'è dentro tutte le tipologie di autori lasciamo pure ampio sfogo a se volete al dibattito che è comunque utile perché su va bene va male con grande piacere riguardo invece alle edizioni perché dobbiamo correre ecco ci tengo a ribadire alcuni concetti base anche qua a sfatare alcune leggende metropolitane molti dicono ah ma se c'è l'editore si prende il doppio e senza l'editore si prende la metà l'ho sentita dire tantissime volte questa questa frase allora voi considerate questo un autore da solo al 100% della proprietà di casa sua giusto? se vende la sua proprietà a un editore non è più proprietario di nulla il classico contratto di edizione musicale cioè di cessione di diritti patrimoniali su un'opera è il contratto con il quale l'autore vende i suoi diritti d'autore all'editore e l'editore quindi ne diventa il proprietario l'editore si fa promotore sfruttatore dell'opera perché generi soldi che poi l'editore va a dividere con l'autore normalmente nella misura del 50% quindi all'autore rimane il 50% dei ricavi dell'opera non della proprietà ok? non vi fate ingannare dai bollettini siae dove trovate scritto 12 24esimi agli editori e 12 24esimi agli autori quelli alla quota con la quale sono ripartiti i guadagni ma a seguito dell'accessione del diritto d'autore che si fa solo con un contratto col bollettino siae l'editore diventato proprietario dell'opera e vi riconoscerà la metà dei guadagni ora questo passaggio per l'autore è utile solamente se l'editore è una persona brava a fare da moltiplicatore perché se l'editore non fa nulla non serve a niente come dare le chiavi di casa a un'agenzia immobiliare che non mi trova un inquilino non mi serve a nulla però senza editore tutto a me con l'editore i guadagni saranno 50 e 50 auspicabilmente su maggiori utilizzazioni d'accordo? ora in Italia la prassi contrattuale è che la durata di questa cessione sia assolutamente identica alla durata di tutela del diritto d'autore cioè gli editori musicali vogliono un'opera per sempre cioè per tutta la vostra vita quindi per sempre più 70 anni non si fanno cessioni a un anno a tre anni a cinque anni nella musica non esiste questa cosa ahimè quindi pensateci bene prima di dare le edizioni musicali a qualcuno pensate ci può essere quello che vuoi dovresti trovare un editore disponibile a dire la compro solo per tre anni io non ne ho mai conosciuto uno le case discografiche sono quei quindi noi stiamo parlando di editori musicali gli editori musicali ragionano così dammi 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 pensateci bene pensate a cosa fa in cambio per voi quell'editore è una cosa che potete fare da soli o meno perché per sempre è come dire ti devo sposare per un bacio ma vediamo un pochino no come regolarci ok queste le cose principali l'ultimo accorgimento riguardo a questa cosa delle edizioni che dobbiamo correre è questo molti editori musicali non vi fanno il contratto vi presentano il bollettino SIAE e vi dicono firma a questo bollettino con il quale io ho il 50% e tu hai il 50% quello non è un contratto di edizione con quel con quella bollettino che è una semplice dichiarazione amministrativa voi state di fatto regalando la metà dei vostri guadagni a un editore per sempre finché lui non dice voglio cambiare sono d'accordo a cambiare il bollettino ma lui non si è impegnato a far nulla per voi nel contratto di edizione musicale invece voi cedete i diritti e l'editore sfrutta l'opera ma si impegna a far qualcosa per voi e se non la fa salta questo contratto quindi la regola che vi salva la vita sempre è prima di firmare un bollettino con un editore firmare il contratto di edizione musicale non si firma mai un bollettino senza contratto perché se firmate quel bollettino è come se voi aveste di fatto regalato i guadagni senza che quest'editore possa far nulla per voi ok? non si fa mai guardatevi bene dagli editori che vi dicano firma firma e abbiamo finito non va bene ci sono domande su queste questioni di publishing chi era più interessato al publishing cri cri tu ti sei sempre tenuto tutto no? vai ho sentito che hai detto che se l'editore non rispetta le condizioni contrattuali per fare qualcosa per il prodotto ci può annullare il contratto sì in particolare andando più nello specifico il rapporto tra l'editore e l'autore è basato su come tutti i contratti un io faccio una cosa per te tu fai una cosa per me quello che l'autore fa è vendere la sua proprietà l'editore in cambio dovrebbe pagarla questa proprietà però la maggior parte degli editori non paga subito cash un minimo per acquistare l'opera dice a corrispettivo della tua cessione io mi impegno a fare una certa serie di cose minime che genereranno quindi un compenso da diritto d'autore che andremo a dividere ad esempio entro due anni dalla firma di questo contratto io farò in modo che quest'opera finisca in un disco pubblicato con almeno mille copie oppure farò in modo che venga inserito in un film come colonna sonora oppure farò in modo che sia venduto online in downloading se questo non avviene in quei due anni tu risolvi il contratto se quest'editore ha pagato una registrazione per esempio di un lavoro cioè l'editore ti ha detto in cambio dell'accessione delle opere io ti do dei soldi per fare il tuo disco non sul contratto diciamo questa è una buona controprestazione a parte diciamo la registrazione a parte dei soldi che le editore come però imparando qualcosa mi pare capito dopo che esce questo prodotto cioè cercare di promuoverlo come dire di pubblicizzarlo se non lo fa anche se ha messo dei soldi no tu però stai facendo un po' confusione secondo me con gli editori che sono anche discografici ecco questo avviene oggi è necessario oggi quasi tutti gli editori sono discografici per il fatto che di dischi non se ne vendono più no nel senso che l'investimento per fare un disco che sia 5 10 20 40 100 mila euro non rientra dalle utilizzazioni fonografiche cioè il disco è necessario per lanciare l'artista o far conoscere quell'opera ma quell'investimento non torna indietro per cui il discografico vuole avere altre forme di ricavo per colmare quell'investimento e queste forme di ricavo già da 20 anni sono anche i diritti d'autore per cui le case discografiche sono anche editori e pubblicando il disco ti dicono vedi sto anche sfruttando la tua opera le do visibilità le due cose le faccio assieme ma oggi i discografici dicono anche voglio una percentuale sui tuoi live anche se non li trovo io voglio una percentuale sui tuoi diritti d'immagine anche se non li trovo io voglio una percentuale su che ne so il product placement anche se non li trovo io perché se tu oggi sei su quel palco a farti bello è per il disco che ho fatto io e quindi vado a prendermi qualcosa su tutto quello che fai se no io ho fatto l'investimento in perdita e tu ci guadagni ok quindi per gli editori che sono discografici è normale ragionare così vuoi fare il disco con me sono io l'editore se no gira larga ma è già nel momento guarda gli editori che sono discografici lo fanno alla prima pubblicazione il punto è che la prima pubblicazione è qui poi magari questo come avviene nella musica leggera il ricambio della musica leggera è così veloce che fra due anni quella canzone chi se la ricorda più lui non la lavora più c'è già altro cui pensare eppure paradossalmente quella canzone c'è ancora cento anni di guadagni davanti allora lì si pone un altro problema è il problema legato al fatto che quel disco è fermo e quell'opera è ferma no e se tu avessi contratti di edizione più corti potresti dire vabbè questo non lo lavora più andiamo ad un'altra parte però non è eh ma non trovi nessuno disponibile a farlo l'unico caso che puoi avere è il caso in cui è il caso in cui il proprietario del master sei tu te lo sei autoprodotto cerchi un'etichetta che ti dia una mano a fare pubblicità al prodotto e a distribuirlo e allora fai un accordo di licenza cioè concedi l'uso di questa registrazione musicale per tre anni cinque anni il tempo necessario per far andare questo prodotto l'etichetta in questione vuole anche essere l'editore allora tu dici aspetta bene facciamo durare il contratto di edizione quanto dura il contratto di licenza perché se no che cosa succede che passati questi cinque anni a te torna la gestione del tuo master ma le edizioni rimangono al primo discografico quindi tu cercherai un'altra etichetta per questo master e lui continuerà a guadagnare e invece tu vorresti far sì che una parte di queste andassero al tuo nuovo discografico che così hai incentivato a rimettere in commercio quel prodotto allora questo è un caso in cui si può cercare una limitazione di durata oppure una limitazione di quote nel tempo per dar spazio ad altri editori o coeditori altri investitori però diversamente etichette che dicono lavoro le edizioni due anni ma non ma non ce la fai proprio impossibile ma neanche negli anni 90 usava in Italia ci sono paesi del mondo in cui è vietato far contratti di edizione per più di 5 anni 10 anni devono essere rinnovati no? invece fai un contratto una volta sei sposato per sempre eh eh sì più che vita vita tua dei figli e dei nipoti perché tutta la tua vita più 70 anni no? ok vorrei domande specifiche perché se no io vado su coeditori subeditori vai sì sì tutti stanno diventando editori anche gli uffici stampa anche le radio tutti sono editori in cui io ho preso il soggetto che prende a parametro faccio aprire il soggetto al mio avvento il lavoro come booking cioè come booking e quindi in questo modo vedo le sue lezioni sì cioè questa cosa sta avvenendo realmente questa cosa esiste da decine di anni quello che sta avvenendo è che diventa editore anche chi non è del settore musicale ti faccio degli esempi l'ufficio stampa di musica che ti deve promuovere il disco ai media ti dice io costo dico una cifra qualunque 2000 euro al mese e tu direi 2000 euro al mese non ce li ho questi dischi non si fanno 2000 euro c'è problema mi dai 6 punti di edizione e ti faccio la pubblicità sono motivato faccio un investimento anch'io e sono motivato a farlo l'edito scusate la radio la radio è diventata editore musicale perché la radio paga il 2% del suo fatturato lordo in diritti d'autore per passare dei brani di altri se la radio passasse i brani propri parte di quel 2% che deve pagare le torna indietro in forma di edizione giusto? quindi comincia a passare il proprio repertorio che è quello che sta succedendo perché ci sono tre radio che hanno fondato una società editoriale e passano il loro repertorio le tv fanno uguale Rai Trade RT sono tutti editori musicali che quindi vuoi passare i tuoi brani in Rai l'editore devo essere io così parte di quello che pago di diritto d'autore e mi torna indietro le catene senza fare nomi le catene di alimentari alcuni negozi di franchising sono editori perché quando tu vai a prendere il cappuccino la mattina la musica che senti può essere anche la loro e sul bancone trovi cd della loro musica poiché le edizioni musicali come dicevi giustamente tu sono rimaste l'unico baluardo di guadagno nel mondo della musica perché se è vero che l'industria discografica è in crisi non è vero che è in crisi la musica anzi le utilizzazioni di opere dell'ingegno sono al loro massimo storico perché oggi abbiamo forme di sfruttamento che non esistevano in passato pensa a internet ai telefonini a tutti i videogiochi cose che non si pensavano neanche tempo è dietro le suonerie i giocattoli ce n'è di ogni tipo allora le edizioni diventano una forma interessante di guadagno poi è chiaro che questa attività è molto tecnica e si basa sulla conoscenza di quali sono i criteri con cui le società di gestione collettiva dividono i soldi sulla conoscenza una ottima conoscenza del mercato musicale discografico oggi ci sono editori che fanno i soldi facendo musiche per negozi un negozio quando vuole far sentire musica ai propri clienti paga il diritto d'autore ma se il negozio facesse sentire la propria musica per esempio se tu pensi a un negozio non ne vale la pena ma se tu pensi che ci sono catene di negozi che in Italia hanno 1300 punti vendita comincia a valerne la pena no? fanno le radio interne esatto le radio in store trasmettono la propria musica promuovono i propri artisti guadagnano il diritto d'autore e hanno una programmazione personalizzata cioè hanno fanno c'è il loro suono in negozio no? loro paragono queste preparate no? potetiche che formano un'ipotetica e che divinano un'ipotetica un gruppo cominciano a passare sempre un gruppo si? no? qualcosa che potrebbe essere successo in Italia cosa che succede quotidianamente come sai in Italia però io qui non peschiamo di andare verso un lavaggio il cervello da un punto di vista passaggio e le pollici e questi due vietti ci vengono passati in era che forse è un po' successiva proprio da un punto di vista se vuoi soggettivo si da un punto di vista di regole il potere ce l'hai tu cambi canale e ti ascolti una radio che fa la musica che piace a te capito? tu non sei costretto ad ascoltare quel canale non è mica monopolista è come se tu vai in un ristorante in cui tutta la vita ti hanno proposto 50 tipi di pizza no? poi il pizzaiolo è il moroso della cassiera prendono quello fa solo la 4 stagioni tu cosa fai? cambi pizza idea no? e loro hanno fatto una scelta la scelta è per una certa quota deve passare la nostra roba non vi piace? vedete canale ma gli utenti comunque possono scegliere se a un certo punto per non fare nome se a un certo punto la 4 stagioni non gli piace a un certo punto diranno che palle sempre 4 stagioni 4 stagioni tutti i giorni 4 stagioni fanno come i cinesi basta l'iso sempre 4 stagioni a un certo punto cambiano pizzeria tant'è che se tu io e te sappiamo benissimo di chi stiamo parlando tant'è che tu sai benissimo c'è una parte d'Italia che la odia a morte la 4 stagioni per questa ragione perché senti sempre quella minestra lì però magari se mi scappa io mi scappa un altro concenso e magari pure di sentire per questa 4 stagioni ci sono dici vabbè però sono bravi perché lavorano sulle masse succede anche noi siamo abituati al gusto di una cosa che mangiamo sempre fuori di mangiarla diciamo buona questa è proprio buona poi magari scopri che la cucina è pessima e dici un giorno che vai a sentire un'altra c'è però magari dice il popolino è stolto non capisce però è un mercato libero c'è un imprenditore fa le scelte che vuole per tanti anni ci siamo sentiti lamentare del fatto che Mediaset ha fatto la tv spazzatura in certa parte politica d'Italia ha rovinato la cultura del paese ma il paese cambia canale se non ti piace spegni io faccio una scelta imprenditoriale faccio il McDonald non ti piace il McDonald non venire ma non rompermi le balle io vendo panini chiaro questa è una cosa su cui a livello di regole sto cercando di andare a livello di regole sì è vero però la tua vedi il tuo discorso che io condivido è un discorso di natura etica ma non è un discorso che può essere che può intaccare le regole cioè non c'è un modo per impedire che questo avvenga a livello di regole è una questione etica non mi piace che il McDonald faccia il McDonald sempre per rimanere esempi di altra natura perché così abituiamo i ragazzini a mangiare i panini grassi la gente diventa più grassa e non va bene dovrebbero fare il McDonald sano quello con la cosa buona fatta in famiglia è una cosa etica ma a livello di mercato non la puoi impedire cioè tu non puoi impedire a queste radio di avere una scelta editoriale di quel tipo e fare il loro business così come non puoi impedire X Factor Amici e tutte le altre cose ma guarda io non lo considero un fenomeno grave io lo considero un fenomeno come tanti secondo me la cosa grave è da un punto di vista se vuoi di educazione musicale che è prima di quel fenomeno cioè a me la cosa che io vedo nel nostro paese che non c'è mi piacerebbe ci fosse di più perché come te sono un appassionato di musica è il gusto di andare in un locale a sentire qualcuno che fa roba sua che non conosci che se si mette a fare una cover lo fischi come fanno in Inghilterra perché dicono guarda che se voglio sentire le cover accendo la radio cioè sono venuto qui per sentire te noi invece questa cultura non ce l'abbiamo della scoperta no? e secondo me proprio perché abbiamo probabilmente una cultura musicale di base molto bassa perché a scuola magari non è fatta bene però le cover band mi sembrano una conseguenza ma è di questa cultura non la causa no? cioè il locale il locale il locale deve fare è un imprenditore ogni imprenditore fa le sue scelte il locale dice come posso riempire il locale stasera prendo una band sconosciuta porto i suoi amici e faccio i soldi è una scelta faccio chiamo la cover band di Ligabue con due musicisti della band tutti sono fan di Ligabue e verranno a vederla è un'altra scelta poi se alla lunga paga strategicamente l'una o l'altra scelta è sulle pelle di quell'imprenditore che si fa e io non posso mettere discutere di come lui spende i suoi soldi no? posso dire che mi piacerebbe più spesso cioè posso dire io vado a sentire solamente artisti originali non vado a sentire le cover le cover se non le vado a sentire accendo il disco di Ligabue e mi ascolto Ligabue è un modo come un altro per fare soldi non d'altra parte scusami ma ci sono esempi in Italia di percorsi fatti insieme ad alcuni locali in cui gli si comincia a dire dammi una sera che non vi è nessuno comincia a proporti musica di qualità il martedì dammi il martedì che non vi è nessuno e provi con il jazz e provi con la musica tradizionale provi con il cantautore nuovo e magari un po' alla volta un po' alla volta a questo locale si fa un nome e si qualifica per quello ma la gente poi deve venire se la gente non viene in locale a un certo punto dice sai che c'è che è un DJ che preme un pulsante faccio più soldi e alla fine io devo portare a casa la pagnotta non è che sono le mie chiappe sui tuoi gusti musicali il fatto è che è un momento anche molto difficile perché stanno anche chiudendo molte realtà non c'è dubbio professionisti o non c'è dubbio appassionati che comunque non sentono ragione cioè vanno quella direzione artistica se si sa ci sono 5 persone domani c'entro loro uguale però a fine mese tireranno i conti anche loro però io allora prima io ho detto una cosa che forse voi che siete un po' più grandi di me potete confermare che prima c'era la possibilità che un locale potesse pagare il direttore artistico del tipo ti do 50 euro a te a serata tu chiama i gruppi e paghiamo i gruppi quindi c'è il locale che pagava 50 mila lire il direttore artistico e poi pagava il gruppo e si creava un circuto adesso invece con la figura del direttore artistico che è una questione economica è completamente cancellata perché il gruppo del locale non ci arriva e quindi cerca di fare lui questo fatto di eliminare questi baluardi che mantenevano un po' le lezioni del paese della città o tutto questo secondo me è un po' la causa darsi forse non è possibile fare una generalizzazione di questo tipo perché sai sono bolognese Bologna è una città in cui tu hai vissuto conosci che è una città molto viva anche musicalmente ci sono tantissimi locali seppur piccoli dove si fa musica dal vivo beh la novità di quest'anno è che un locale storico di Bologna che ha sempre fatto musica originale mai fatto una cover ha detto io non la faccio più perché non c'ho i soldi perché la contingenza economica non mi permette più di stare in piedi allora quando succedono cose di questo tipo secondo me non dipendono dal produttore artistico dipendono da come va in questo momento il mercato e in questo caso specifico secondo me è una lacuna delle istituzioni perché poiché la musica dal vivo originale è promozione culturale è cultura esattamente come la mostra di pittura uguale se tu i locali che fanno questo tipo di attività li agevolassi in qualche modo o con un contributo o con uno sgravo fiscale o con un aiuto di qualunque tipo va là che si continuerebbe a fare questo tipo di attività anche in un momento così difficile li si aiuta questi imprenditori perché fanno Bologna quella che è se invece lasci l'imprenditore a se stesso lui alla fine tirerà sempre una rega di ralo sai che c'è no ragazzi non ce la faccio quindi o voi diventate miei soci e ci mettete i soldi con me o mi portate barcate di gente sulle mie selezioni musicali oppure io non è che devo tirare la carretta per far venire dieci persone e andare in rosso cioè un imprenditore ragiona da imprenditore adesso io non conosco le statistiche in dettaglio ma la sensazione è che la gente che va fuori a ascoltare musica stia di molto calante se i brindisi sono 90.000 abitanti però se non mi sbaglio a parte stagioni qualche realtà di locale non c'è mai stato un punto cioè un punto di trovo questo se posso permettermi perché perché non c'è mercato perché non c'è volontà perché il brindisino non c'è la cultura di andare a vedere la musica dal vivo ma io penso perché si tratta proprio di stagioni che è proprio un nucleo di persone pura nella sua vita e poi a un certo punto si stancano dovrebbe esserci un riciclo che invece non c'è più può darsi questo video non c'è un po' che mi sono fatto io lo so può darsi però adesso tuttora non ho un'idea di un locale o più locale dove tu sai che andati si fa musica non lo so io non ho mai fatto l'imprenditore mi piacerebbe sentire la voce di qualcuno che vive sulla sua pelle questo problema ecco quello che volevo dire è che capisco che non possiamo darla solo la colpa ai locali secondo me dobbiamo in un momento così di crisi ragionare a livello di sistema perché è un locale che chiude è un locale che non dà lavoro ai musicisti è una perdita per la musica è una perdita per tutto l'indotto quindi in realtà secondo me in un momento così difficile lo scatto di qualità che dovremmo fare noi è non vedere il locale come la controparte che mi dà il cash bass ma cercare in un'ottica di sistema di salvare il circuito quello sano si intende non quelli che fanno la pelle sui musicisti e ci fanno i soldi no? cioè quelli che veramente vogliono promuovere la musica diciamo non cover per tornare al tuo tema ma la gente non viene c'è tutto un lavoro da fare lì e questo si può fare solamente secondo me insieme ai musicisti insieme alle istituzioni se no questa è però la mia opinione personalissima l'hai chiesta te l'ho detta non vedo strettamente il problema nei produttori artistici almeno a Bologna il problema non è lì secondo me perché anche i locali che hanno sempre avuto un'ottima selezione musicale si trovano a dire ragazzi qua non viene più nessuno è passato il live music act che è una è una legge che ha tolto ai locali che hanno meno di 200 posti alcuni adempimenti burocratici cioè semplifica l'attività per fare musica dal vivo è una sburocratizzazione diciamo non ci sono incentivi economici particolari però che io sappia c'è un esempio di esperienza personale qui in zona c'è stato un locale che ha ospitato per 78 anni artisti in vivo però poi alla fine forse in concomitanza con l'arrivo della crisi poi ha chiuso e ha annullato l'attività cioè lui riusciva ad ospitarli però da quello che lui ho capito non riusciva poi a coprire veramente le spese recuperate nell'alto della settimana con niente insomma non riusciva a pagare l'oggetto l'artista e a recuperare tutto in quella sera lì quindi poi dopo non non lo so io l'impressione l'impressione che mi son fatto io è che chi fa musica dal vivo dovrebbe avere un trattamento fiscale molto molto diverso da un locale normale anche perché per quello che sento girando l'Italia tantissimi per fare il locale sono costretti a fare o nero o aprire in forma di associazione perché se dovessero farlo nella forma imprenditoriale internazionale non starebbero in piedi coi costi questo è un segnale secondo me interessante perché è sbagliato il concetto di dire io farò il mio business alle spalle dello Stato prima fai i conti e poi se non puoi fare il business non lo fare però è anche sbagliato ci dà anche l'idea visto che questo fenomeno è molto diffuso del fatto che forse per quella tipologia di attività il margine non c'è per ragionare su uno schema imprenditoriale tradizionale da un punto di vista fiscale perché se il modello che funziona meglio è quello dell'associazione vuol dire che il margine non c'è allora a questo punto il nostro Stato dovrebbe dire promuovete la musica italiana fermi tutti a voi vi trattiamo in un altro modo a queste condizioni con questi controlli ma voi siete quelli che promuovete la cultura nel vostro territorio fate aggregazione sociale fate lotta alla criminalità fate lotta al disagio voi siete i centri culturali del vostro territorio vi aiutiamo noi e quindi anche se siete imprenditori sì perché se no come dicevo prima ti nasce il centro sociale poi il comune perché è un po' politicizzato sul centro sociale non guarda gli imprenditori chiudono e allora capisci questa però è l'impressione che mi sono fatto io soprattutto sul mio territorio Bologna è una città del jazz pazzesca ci sono un sacco di locali dove si suona storicamente i musicisti i grandi jazzisti passano da Bologna prima di andare a un via jazz da sempre Chad Baker è stato danno un casino però oggi chi va a sentire il jazz chi ci va a un pubblico di nicchia non è una roba in voga come era negli anni 70 o 60 dove era cioè che ora abbiamo fatto? boh siamo bravissimi domande? io potrei andare avanti ore 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 ma ci sono ma la regia mi ucciderebbe e forse avremo suicidi online ok allora se avete alcune domande facciamole se no è un infarinato un po' di tutto ma un argomento finale ma un argomento finale di me allora la CIAI ogni anno pubblica un'ordinanza di ripartizione che viene scritta da una commissione che è fatta da autori editori scelti dall'assemblea e poi approvata da consiglio di amministrazione la ordinanza di ripartizione è fatta in sei classi di utilizzo principali e per ciascuna di queste classi ci sono criteri diversi per la divisione dei compensi si passa da criteri di natura analitica cioè per ogni singola utilizzazione c'è un singolo compenso che è il criterio più limpido più giusto più equo più coerente con il concetto di proprietà ed è ad esempio presente nel caso della musica dal vivo in ambito concertistico cioè musica dal vivo della musica è protagonista quindi non so spettacoli in piazza concerti di musica classica in teatro allora in quel caso tu sai si compila il bordero se è bordero rosso cioè se è musica leggera si divide il compenso incassato in diritto d'autore per il numero di brani suonati alla romana 100 diviso 10 10 euro a testa escludendo i bis e i brani sotto i 30 secondi nella musica colta il bordero blu si fa a durata per la durata di utilizzo questo è un criterio analitico lo trovi nel concerto lo trovi nelle registrazioni fonografiche è un analitico a durata lo trovi nella musica online lo trovi nella utilizzazione di musica nei cinema sono tutte analitiche poi ci sono dei criteri che sono cosiddetti accampionamento dove non ci si basa sul rendiconto ma ci si basa su un campione è quello che è successo nel ballo con strumento meccanico ad esempio cioè la musica dei dj o quello che è successo nei concertini cioè gli spettacoli dal vivo in un contesto dove la musica non è protagonista ma dove la musica ha sottofondo cioè i ristoranti i pub quelli si chiamano concertini o intrattenimenti musicali allora in questo caso la CIA ha scelto dei criteri misti io quando dico la CIA intendo sempre gli autori e gli editori perché è gestita dalla categoria in parte di considerare i report analitici in parte di andare a campione selezionare mille controlli a semestre come capita nel concertino piuttosto che 4800 ore di registrazione per il ballo e dividere i compensi in questo modo questo criterio è più ingiusto ma più economico perché costa meno comunque sulla quale poi si fanno delle dotazioni appunto una dimensione l'arte dell'arte perché poi sono due collettivi di un cliente ogni semestre sì no diciamo però il problema è capire la ripartizione è basata su criteri logici primo si va a vedere l'incassato di diritto d'autore cioè quanto è stato versato in proventi per quella singola utilizzazione secondo si toglie l'aggio nella musica dal vivo è il 22% terzo si applica il criterio di quella classe di utilizzo che ne so analitico o a durata quarto si ottiene il valore del brano quinto si divide il valore del brano per le quote indicate nel bollettino no ora quindi più alti sono i proventi incassati per quell'utilizzazione più soldi ci sono più il criterio minore l'aggio più soldi ci sono più il criterio analitico più è giusto questo è il concetto poi non sempre è economico fare analitico cioè l'analitico è la perfezione però è antieconomico ti faccio degli esempi come sono solito fare da molto banali a fine di questo bel seminario andiamo fuori a mangiare la pizza mangiamo poi arriva il conto e come lo dividiamo facciamo analitico ognuno segna cosa ha preso oppure facciamo la romana quanti siamo sei diviso sei fare diviso sei più ingiusto però facciamo però facciamo in fretta invece metterci lì a fare i conti stiamo lì un'ora quanto vale il nostro tempo se vale più di quell'ora cioè quell'ora vale più dei soldi che guadagniamo a fare l'analitico diventa antieconomico ecco le società di gestione collettiva ragionano esattamente nello stesso modo se una radio mi paga 10.000 euro all'anno di Siae perché è una piccola radio locale e trasmette 100.000 brani in un anno ma che cosa come posso pretendere di fare i conti analitici dei singoli passaggi quando un singolo passaggio può valere un millesimo e per calcolare quei 10.000 euro ne spendo 20.000 no quindi quei compensi devono essere divisi secondo un criterio dobbiamo trovare solo il criterio più più vicino alla realtà questo avviene in tutte le società gestione collettiva del mondo è chiaro che è ingiusto perché non hai a ciascuno suo ma devi ragionare in maniera probabilistica vi faccio un altro caso in cui questo avviene tutti gli esercizi commerciali che accendono la radio pagano il diritto d'autore pagheranno 200-300 euro l'anno che si mettono lì a dire tutti i brani che sono trasmessi tutti i giorni quei soldi vengono raccolti poi dobbiamo trovare un criterio per dividerli quale sarà il criterio ma hanno acceso la radio allora basiamoci su quello che è passato in radio hanno usato dischi allora basiamoci sui dischi pubblicati no cioè dobbiamo trovare un criterio che ci permette di dividere quei compensi capito poi questo criterio questo criterio può essere più o meno giusto cambiare di anno in anno bisogna vedere quanto paga quel centro se ci fosse un criterio analitico sì ma è così che si fa business con la musica gli editori ragionano così capito una nave da crociera fa musica dal vivo tutte le sere ma cosa facciamo paghiamo il viaggio in crociera a uno che sta lì ascoltare cosa fanno per sapere cosa fanno non si può fare ed è il motivo per il quale in tanti paesi l'analitico non esiste voi andate negli Stati Uniti d'America non c'è l'analitico perché vai tu a fare un controllo su una superficie di quel tipo come fai l'analitico c'è solo sui grandi eventi in tutti gli altri c'è il forfè e poi bisogna pensare come dividere quei soldi ogni paese fa le sue scelte capito non è per la quantità di bollini ma per quanto vale quella singola utilizzazione non per quanti ne compili perché se tu fai mille borderaux da 50 euro o fai un concerto in piazza è un altro tipo di discorso quel concerto prende più diritto d'autore quei brani valgono di più il criterio comunque trascina torniamo all'esempio della pizzata e poi chiudiamo che dalla regia ci dicono che anche ora mettiamo che uno di noi va via senza pagare prima della fine della sera succede sempre va via a questo punto che facciamo la quota di quello che è andato via come la copriamo dividiamo in 5 è un criterio oppure facciamo attracinamento cioè tu hai speso 10 io ho speso 5 tu devi prenderti parte della sua quota al doppio della mia è un altro criterio no? dobbiamo semplicemente decidere qual è il criterio che più si avvicina alla realtà è ingiusto sì ma è tipico di qualunque società di gestione collettiva si chiamano calderoni no? ne sentite parlare questi questi contenitori che hanno soldi che non sono di nessuno perché non sono attribuiti analiticamente e tu devi trovare un criterio per ripartirli perché non te li puoi tenere sono soldi degli autori italiani e degli autori di tutto il mondo devi cercare il criterio più vicino finirà probabilmente che i brani no? gli autori i brani che in quell'anno hanno avuto più successo si trascineranno proporzionalmente per ciascuna utilizzazione questi calderoni come dire che tu pagherai proporzionalmente più di me la quota di quello che è andato via piove sul bagnato piove sul bagnato l'anno l'anno che l'anno che il tuo brano ha avuto successo piove sull'asciutto per te perché probabilisticamente i bar hanno sentito la tua canzone non la mia che non è stata passata giusto? questo è il criterio non è una una forma di è all'italiano no no è così in tutto il mondo non è una roba sì sì noi siamo molto abituati anche a pensare male dicevamo ottimi la SIAE ha un accordo di reciprocità con quasi tutte le SIAE del mondo esiste una struttura mondiale che si chiama SISAC che SISAC che cerca di favorire gli scambi di repertorio tra le varie società e la nascita di SIAE nei vari paesi in via di sviluppo perché si possa raccogliere anche da lì se tu vai sul bollettino SIAE c'è l'elenco di tutti i paesi e quindi si scambiano normalmente il repertorio tutti gli anni ci sono azioni in cui hanno qualche migliore rapporto? no no esistono o che c'è il rapporto o che non c'è il rapporto sì sì ad esempio che ne so alcuni paesi del terzo mondo la SIAE dice non c'è niente a che fa non mi conviene non ci sono utilizzazioni non ne va la pena ma con l'Europa siamo normalmente ben piazzati con tutti ecco questo punto di vista va bene io vi ringrazio tutti per per l'ascolto vi invito a visitare il nostro sito nottelegali.it per noi invece va avanti per voi invece no ciao 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 Grazie a tutti